Mentre nella vallata istituzioni e sindacati stanno facendo il possibile per salvare la manifattura di soci e i 18 lavoratori, dall'Inghilterra arriva la notizia che da un'azienda fornitrice di Buckingham Palace è arrivato l'ordine di un cappotto di panno color becco d'oca per il nuovo re d'Inghilterra Carlo III. Tutto questo dimostra ancora una volta che in questa azienda viene fatto un prodotto unico al mondo, viene fatto con tutti gli ingredienti umani, territoriali che sono qui in Casentino, in questo sito produttivo, ormai da secoli e devo dire che purtroppo, almeno fino adesso, l'importanza a tutto ciò è stata data più all'esterno e fuori dal Casentino che proprio nel Casentino stesso. Intanto da Prato il gruppo Bellandi ha presentato un'offerta per salvare la storica fabbrica di soci, un segnale di speranza in un momento estremamente difficile per questo comparto. Abbiamo depositato ieri un'offerta cauzionata ai commissari della liquidazione coatta amministrativa per rilevare l'immobile dove attualmente l'azienda sta svolgendo la propria attività. Vorrei precisare che il nostro intervento è scaturito da una precisa richiesta di aiuto da parte della Manifattura del Casentino e di fronte ad una richiesta di aiuto da parte di un nostro fornitore storico non ce la siamo sentita di dire di no. Per noi c'è tutti gli elementi possibili che indicano in un modo o nell'altro le volontà per chiudere la partita. Quindi ora la palla in mano ai liquidatori si sentano estremamente osservati perché fino ad ora questa storia ha avuto veramente del paradossale.